ciao benvenuto bentornato su appunti di viaggio oggi ci troviamo a scigliano precisamente nella frazione petrisi e visitiamo anche la chiesa del carmine però se non l'hai ancora fatto ricordati di iscriverti al canale di attivare la campanella di lasciare il tuo like se le immagini ti saranno piaciute grazie a tutti 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 e anche questa è fatta da scigliano petrisi è tutto però prima di andartene ricordati di iscriverti al canale di attivare la campanella e di lasciarmi il tuo gradito like ciao arrivederci alla prossimo grazie a tutti